Con il termine file system si intendono due concetti distinti ma legati fra loro. Il metodo utilizzato per memorizzare i file all'interno del disco e la struttura e l'organizzazione delle directory. In questo video parliamo di file system secondo la prima delle due definizioni. Vediamo i tipi di file system più utilizzati, le caratteristiche ed i campi di applicazione di ognuno di essi dal punto di vista di un utente Linux. Continuando col discorso del partizionamento del disco fatto nel precedente video, una volta che hai creato la tua bella partizione perché questa possa essere utilizzabile deve contenere un file system e la procedura di creazione del file system all'interno della partizione è conosciuto nel linguaggio comune col nome di formattazione. Il primo file system che andiamo a vedere è XT4 che come dice il nome stesso è la quarta incarnazione dell'extended file system ed è considerato stabile dalla fine del 2008. È il file system nativo di Linux più utilizzato e soppianta a loro volta i file system XT2 ed XT3 che a loro volta erano i file system nativi di Linux più utilizzati prima dell'evento di XT4. Solo perché lo menziona l'installer di Ubuntu ti dico che è un file system con journaling cioè tiene un diario, detto journal, di tutte le operazioni che stai per fare e che sono state fatte nel file system. Questa caratteristica è molto comoda per garantire l'integrità dei dati nel caso vada via la corrente nel mezzo di un'operazione. A dire il vero, 20 anni fa aveva senso parlare di file system con o senza journaling ma oggi praticamente tutti i file system sono con journaling quindi non vedo il motivo per cui specificarlo nell'installer. Caratteristica interessante di XT4 è che è in qualche modo retrocompatibile con i vecchi XT3 ed XT2. Si può migrare a un file system XT2 in XT3 ed a un file system XT3 in XT4 senza perdite di dati. Solitamente creare un file system in una partizione o nel gergo comune formattare un hard disk comporta la cancellazione di tutti i dati preesistenti in quella partizione. Quindi avere un modo indolore per convertire un file system XT3 in XT4 è un vantaggio non da poco. L'autore di questo file system, nel lontano 2009, lo ha definito come una soluzione temporanea in attesa che file system più evoluti tipo Butterfest che vedremo dopo diventino stabili e che la famiglia dei file system XT era arrivata al limite. E infatti eccoci qua oltre dieci anni dopo ad utilizzare ed apprezzare la sua soluzione temporanea. Voglio parlare brevemente di XFS solo perché è il file system di default in Red Hat Enterprise Linux a partire dalla versione 7. XFS nasce nel 1993 come file system per il sistema operativo IRIX e viene portato su Linux nel 2001. Per un utilizzo casalingo, XFS ha più o meno le stesse caratteristiche di XT4 salvo alcune differenze di prestazioni. Ma XFS è importante perché è stato scelto da Red Hat come base del progetto Stratis per avere le stesse features avanzate dei file system ButterFS e ZFS senza però avere problemi di corruzione dei dati o di licenza. Detto questo, personalmente non ti consiglio di utilizzare XFS sul tuo PC ma comunque ho voluto menzionarlo perché potresti trovarlo come opzione in qualche distribuzione. Almeno ora sai cos'è. Ed eccoci alla prima file system avanzato per Linux. Ha principalmente due caratteristiche degne di nota. A differenza degli altri file system, non è vero che un file system equivale ad una partizione. Il file system può estendersi su più partizioni o anche su più dischi. La cosa veramente interessante è che supporta gli snapshot il che significa che tu puoi fare una fotografia dello stato del file system in un istante di tempo. Poi effettuare un'operazione pericolosa tipo l'installazione di un software o un aggiornamento e se la cosa non è andata bene, puoi tornare esattamente alle condizioni in cui hai fatto lo snapshot. A questo punto, se sei un utente Linux di vecchia data, ti starei chiedendo Aspetta un attimo! Ma queste funzionalità non le supporta già il kernel di Linux da tempo in memore con RAID ed LVM, indipendentemente dal file system utilizzato per giunta? E la risposta è sì, ma questa volta le funzionalità fanno parte del file system al posto di una componente del kernel separata. Di conseguenza sono molto più veloci e meno complicate di RAID ed LVM. Fantastico, ma allora perché Butterfest non è il default su tutte le distribuzioni? C'è da dire che su carta Butterfest promette veramente bene, ma nonostante si è in sviluppo da diversi anni e incluso nel kernel di Linux dal 2009, quella è di cattiva fama in quanto in passato perdeva e corrompeva dati spesso e volentieri. Forse ora è diventato più robusto, ma data la sua sfortunata storia, ti fidi a lasciare i tuoi dati su questo file system. ZFS è un file system che ha tutte le caratteristiche appetibili di Butterfest. A dire il vero è Butterfest che ha preso ispirazione da ZFS e dettagli. Ma a differenza di Butterfest, ha una lunga storia di robustezza e stabilità alle spalle. È un file system sviluppato nel 2005 per il sistema operativo Solaris e portato su Linux nel 2008, ma visto che è stato rilasciato con una licenza incompatibile con quella del kernel di Linux, non potrà mai essere incluso ufficialmente nel kernel e di conseguenza non potrà mai diventare il file system di default nella maggior parte delle distribuzioni. È un vero peccato la questione della licenza, perché se fosse stata compatibile GPL, oggi non sarei stato qui a parlare di XFS, Stratis e Butterfest, perché sono sicuro che tutte le distribuzioni avrebbero adottato ZFS. Ciò nonostante, per esempio, Ubuntu dà la possibilità di installare il sistema operativo su una partizione ZFS. Apro solo una breve parentesi dicendo che esiste anche il file system BcacheFS, che ha tutte le features che ci piacciono di Butterfest e ZFS. A detta dell'autore è molto stabile, ma è un progetto molto giovane, non ancora ufficialmente incluso nel kernel, quindi è ancora presto per dire se susciterà qualche interesse da parte delle distribuzioni oppure no. Abbiamo finito di vedere i file system nativi di Linux. Ora vediamo il file system NTFS, che è quello nativo di Windows. Essendo nativo di Windows, non supporta le funzioni native di Linux, tipo utenti, gruppi, permessi, block, character, device, eccetera, eccetera, e quindi non puoi installarci Linux sopra. Tuttavia, Linux supporta il file system NTFS sia in lettura che in scrittura grazie al progetto NTFS 3G, e quindi avere una partizione NTFS dedicata è un ottimo modo per scambiare file tra Windows e Linux. Il file system FAT, nelle sue varie incarnazioni, FAT12, FAT16, FAT32, era il file system nativo del DOS e delle prime versioni di Windows, e oggi è usatissimo nelle chiavette USB e nelle schede SD e SDHC. Essendo un file system semplice, ovviamente non ti puoi aspettare le funzioni native di Linux, e nemmeno quelle avanzate di Windows, ma è supportato da tutti i sistemi operativi, per cui è l'ideale per scambiarsi dati da un computer all'altro. Oltre a ciò, è anche il file system utilizzato nella EFI System Partition. La limitazione maggiore del file system FAT è che non supporta file di dimensioni superiore ai 4 GB, per cui occhio se lo usi per tenere dei video, per esempio. XFAT è un file system sviluppato da Microsoft nel 2006 per avere un file system semplice per lo scambio di dati senza le limitazioni della FAT32. È il file system utilizzato dalle schede SDXC ed alcune chiavette USB. Fino al 2019 il suo supporto su Linux non era il massimo, in quanto la Microsoft ha pensato bene di brevettare alcune caratteristiche di questo file system. Dal 2019 però la Microsoft ha rilasciato i brevetti all'Open Invention Network e quindi Linux ha potuto supportarlo come si deve. Usa questo file system su chiavette USB se vuoi scambiare file di dimensioni superiore ai 4 GB con gli altri computer. Concludendo, XT4 è ancora un ottimo file system. Usa una partizione NTFS per scambiare dati con Windows sullo stesso computer. Usa FAT32 o XFAT per scambiare dati tra un computer e l'altro. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo di iscriverti al mio canale, attivare la campanella e che trovi i miei video sia su YouTube che su Library. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao! No, 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 no. Grazie a tutti